Bentornati a tutti da Yahoo99 come vi avevo detto nella recensione cioè nel bus test dell'attoparlante della Thrust oggi vi faccio vedere l'orologio Casio Vintage come vi aveva promesso allora come potete vedere dall'inquadratura c'è la sua scatola con solo il logo Casio con scritto Casio scusate per il telefono Casio e poi vediamo il nostro bellissimo orologio da dietro allora non sono riuscito a mettila da rinfilarla per bene dentro e la diplastia perché il manuale delle istruzioni lo danno a parte però io ce lo volevo mettere per non perdere per tirarlo fuori basta solo lo prendete scusate che levo la luce e la tirate fuori e la scatola viene via allora come potete vedere all'interno c'è un libretto delle istruzioni modello e poi ci sono un bel po' di istruzioni tanto è semplice usarlo perciò non importa leggere allora scusate se qualche volta vi levo la luce perché come ho detto la scorsa porta qui da quest'altra parte dove vedete l'ombra ho una luce e mi illumina perché non avrei moltissima luce perciò a volte c'è luce a volte no allora questa è la confezione ve la allontano un po' cosiddetto asio e poi basta per toglierla io anch'io all'inizio credevo che bisognava fare in questo modo cioè prendere dove c'è questa ringuettina e tirare però non viene dovete prendere qui sotto prende con il dito infilaccelo e verrà via subito allora leviamo la cosa di plastica la faccia di led della webcam per vedere un po' meglio ora troppo lasciamo così vi dicevo plastica plastica via allora qui c'è il nostro bellissimo orologio asio velociro un pochino verso la luce di colore argento c'è anche oro o se no di plastica nero altri colori però sono più belli ore e argento oro non c'era c'è la dovevo prendere solo argento però forse se riesco a trovarlo lo comprerò anche oro allora non si vede tanto perché c'è pochissima luce allora questa la possiamo togliere scusate per la tosse guardiamo accendo il di led c'è troppo riflesso eh sì apriamo fare un po' così però ora lo vedete e ora ve li spengo perché se no riflette troppo allora è un bellissimo orologio ve lo assicuro che riprende dei vecchi orologi asio molto belli vintage si infatti modelli vecchi però questo è ovviamente un modello nuovo allora iniziamo subito a tre tasti due qui uno qui e uno qui e un altro dico ah se lo trovo ve lo faccio vedere c'è qui c'è una luce mi dispiace qui le funzioni si trovano scritte sopra qui la di sicuro non le vedete non le vedete perché sono delle scrittine minuscole quindi le ho scritte qui in cima ah nel display troviamo l'ora le ore i minuti i secondi il giorno e la data ovviamente qui si direttasti allora questo in cima serve per l'illuminazione fa pochino però non lo userete quasi mai e poi fa dare reset questo di sotto invece fa per tutte le modalità dove siamo passati a sveglia a cronometro perché è anche il cronometro e e poi da qui che ho cliccato come potete vedere l'ampigione in seconda da qui si rimposta le ore da data ai giorni tutto si rimposta cliccando lì ecco l'orologio asio vintage argento questo era il video che come ho detto l'orologio grazie di averci dai avro mattina grazie